ma buongiorno allora benvenuti questa nuova vettura aerea faccio questo video in un periodo molto particolare perché siamo in autunno non so se si capisce ma siamo in autunno è proprio perché grazie al ponte dei morti riusciamo a trascorrere tre giorni in montagna e a beccare il foliage almeno il potenziale foglia se ci sarà nelle zone del valtellinese di conseguenza zaino della montagna drone gopro insta sì e poi una serie di accessori e non sono neanche tutti perché abbiamo treppiede 1 porta cellulare perché ovviamente porterò anche questo telefono e treppiede grande perché ovviamente per fare i timelapse è necessario ma buongiorno oggi sveglia prest però sarà utile perché dovremo fare tanta strada almeno arriveremo a destinazione allora le decenni se questo mi assiste ma buongiorno 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.